Si è chiuso da poco il bilancio di previsione 2014 e il piano triennale annuale delle opere pubbliche. Qui a Mazzara del Vallo acconta a me il consigliere Lagrutta, una riflessione in merito a quanto è successo. Tante polemiche in consiglio comunale, però alla fine si è arrivato a chiudere la giornata. Un consiglio è durato tantissimo, oltre 10 ore, forse anche di più 12-14 ore. Per questioni burocratiche, per un errore della burocrazia, siamo stati costretti a valutare meglio quello che si stava facendo. In riunioni di capigruppo hanno deciso di procedere in una determinata maniera. Il segretario generale ha avallato e si è fatto a carico di un percorso, di un certo tipo di percorso. In pratica, alla fine si è discusso sia di piano triennale, ma anche di bilancio. Per quanto attiene il piano triennale? Dico subito che praticamente il piano triennale è il famoso libro dei sogni, perché materialmente, annualmente, non si realizzano nemmeno tutte le opere previste annualmente. Quindi figuriamoci quelle previste nel triennio. Ma se in questa città non è possibile nemmeno sognare, e allora viene da riflettere, perché se un micronido comunale viene posta come opera nel piano triennale all'ultimo posto, al 217esimo posto, l'asilo nido comunale, e no, le priorità non sono queste della città. Tante vie che hanno bisogno di urbanizzazione primaria, di opere di urbanizzazione primaria, al 2016, quando in realtà con gli emendamenti proposti si poteva posticipare alcuni interventi, quindi non annullarli, semplicemente posticiparli, e con le somme previste anticipare questi altri interventi, che secondo me sono molto più importanti. Tra l'altro lei aveva pure presentato un emendamento per 6 milioni di euro, se non mi sbaglio, forse anche meno, grazie ai quali si riusciva a fare tante cose, anziché una, come prevista dall'amministrazione mazzarese. Invece, di cosa parlava il suo emendamento, quali erano i punti, nello specifico? Allora, nello specifico l'emendamento posto al piano triennale anticipava, ora non ricordo bene i numeri, ma erano qualcosa come 12 opere, con 6 milioni di euro. Al primo punto del piano triennale ci sta la realizzazione di un tiro a segno. Sono previste somme per 6 milioni di euro per la realizzazione del tiro a segno, quindi l'amministrazione comunale ha reputato prioritario questo intervento rispetto a molti altri. Molti altri che io invece, da consigliere comunale e da cittadino, penso che siano molto più urgenti da fare. Per esempio, la questione della piscina comunale, la stessa amministrazione, il vice sindaco disse, scrisse a mezzo stampa che era una cosa urgente da fare, la si poteva fare anticipandola. Tantissime vie che hanno bisogno di opere di urbanizzazione, quindi parliamo di fognature e luce, le si riusciva a anticipare dal 2016 direttamente al 2015. Non solo, si è parlato tanto di questo ponte che dovrebbe attraversare il fiume, il Consiglio Comunale precedente aveva pure votato quest'opera. C'è il progetto fattibile calato nel piano triennale, però alle calende greche. Anticipiamola, facciamola già nel 2015. Ecco che tutte queste opere potevano essere anticipate e fatte prima senza tagliare il poligono di tiro a segno. Queste somme erano comunque utilizzabili e fattibili posticipandola semplicemente di qualche posto poco dopo. Quindi in realtà in un ordine di priorità che il Consiglio Comunale si fa carico in base alla legge regionale, il Consiglio decide l'ordine prioritario delle opere. L'amministrazione le propone, il Consiglio decide l'ordine prioritario. Andavano poste queste altre opere? Prima certamente, prima facciamo le cose che servono veramente, poi casomai ci divertiamo a sparare. Direi che è anche una cosa sacrosanta sotto un certo punto di vista. Guardavo anche che all'interno degli emendamenti c'erano due emendamenti riguardanti le scuole. In questi giorni mi sono informata riguardo la sicurezza nelle scuole qui a Mazzara del Vallo. Mi sono resa conto che c'è una situazione veramente allarmante. Tra l'altro la quinta commissione, di cui anche lei fa parte, si è proprio proposta in merito per sistemare molte criticità all'interno delle scuole, ma l'emendamento è stato bocciato. Come mai? Come mai? Bisognerebbe chiederlo a chi l'ha bocciato. Io so solo che già fin dalle prime sedute di commissione abbiamo sentito tutti e sette componenti. La commissione ha l'esigenza di verificare lo stato dell'arte di tutte le scuole di competenza comunale. Tant'è che ci siamo fatti autorizzare dal Consiglio comunale, che ha votato la possibilità che la quinta commissione facesse dei sopralluoghi. Da questi sopralluoghi sono emerse delle criticità. Chiaramente queste criticità abbiamo voluto sottoscrivere un documento come commissione che impegnasse l'amministrazione comunale a intervenire immediatamente. Mi spiego meglio. Se trovo un cornicione che sta cadendo in una scuola, oppure se c'è un tubo che non funziona, se trovo una tubazione di amianto che va rimossa, se ci sono problemi di sicurezza dove poter intervenire, dover intervenire immediatamente, allora si chiede con un atto indirizzo che l'amministrazione intervenga. Il Vice Sindaco, Silvano Bonanno, risponde in commissione con un documento scritto che non ci sono somme disponibili per poter intervenire e che tra l'altro queste urgenze erano già presenti fin dalle precedenti amministrazioni. Non voglio sapere chi erano le precedenti amministrazioni. Il fatto sta che bisognava intervenire urgentemente. Ecco che in sede di votazione del bilancio 2014 ho pensato bene, sottoscritto anche da altri consigli comunali, di spostare delle somme, 60.000 euro, per poter dare questa somma... Utilizzando il fondo somme urgenti, se non mi sbaglio. Sì, il fondo di riserva. È un fondo che l'amministrazione comunale, il Sindaco, dispone di queste somme per intervenire nelle urgenze, nelle emergenze. Stabilito che la quinta commissione ritiene quelle delle urgenze, in effetti lo sono perché si tratta di rimuovere amianto, si tratta di ovviare dei problemi strutturali di alcune scuole, un cornicione per ripararlo, non ci vogliono tantissime somme, ma con quei 60.000 euro si poteva intervenire in tempo. Si poteva dare al Vice Sindaco la possibilità di annullare il documento che aveva scritto, di avere le somme per intervenire. 60.000 euro di spostamento. Cosa di competenza che il Consiglio Comunale poteva farlo? Tant'è che i pareri in quell'amendamento erano favorevoli, sia di regolarità tecnica che contabile. Ebbene, sia i componenti della quinta commissione, sia la maggioranza per intero, ha deciso di non spostare queste somme e di non dare la possibilità al Vice Sindaco di poter intervenire immediatamente per quelle criticità che la quinta commissione aveva segnalato, ma per tante altre, perché le emergenze sono tantissime, si poteva intervenire. Lo si farà dopo, perché leggo anche a mezzo stampa di altri comunicati. L'amministrazione comunale è impegnata nel mettere in piedi altri, come dire, degli interventi che però, non subito, nel tempo verranno realizzati. Questo tempo, secondo me, per certe cose è troppo lungo, si poteva fare subito, non lo si è fatto. Eppure le nuove generazioni di Mazzara del Vallo frequentano queste scuole dove ci sono cornicioni che cadono, dove ci sono infiltrazioni d'acqua direttamente sugli impianti elettrici. Questo sarebbe realmente urgente? Come si spiega che i bambini non sono quindi una priorità per l'amministrazione? Io mi sento di dire solamente che un'amministrazione fatta di cittadini, un'amministrazione 5 Stelle, avrebbe coinvolto la cittadinanza nelle priorità veramente urgenti, avendo anche poche somme, ma l'intervento sarebbe stato immediato. Un sindaco 5 Stelle non si sarebbe mai fermato ad aspettare, sarebbe intervenuto subito con quello che aveva, dopodiché avendo esaurito tutto quello che aveva, avrebbe detto che i cittadini non ci sono somme. Questa è una cosa certa, certissima. Detto questo, voglio dire che c'era anche un altro emendamento. Questa volta al piano triennale, all'ultima posizione, la costruzione di un progetto di un asilo nido, realizzato con fondi PAC. Attenzione, in queste giornate abbiamo appreso che il Governo nazionale ha ritirato la possibilità di utilizzare questi fondi, 5-600 milioni di euro di fondi PAC assegnati alla Regione Sicilia, tutti quelli non spesi, il Governo nazionale li riprende per fare altre cose. Quindi la Sicilia, i progetti, questo progetto di micronido probabilmente non potrà più essere finanziato con i fondi PAC perché il Governo nazionale ha ritirato le somme. Io ho scritto un emendamento firmato da molti altri che faceva sì che questo progetto messo all'ultimo posto, all'ultimo posto, accanto proprio alla piscina comunale, all'ultimo posto lo si anticipasse, utilizzando delle somme direttamente comunali, e quindi effettivamente le somme veramente spendibili, e lo si facesse. La città di Mazzara del Vallo non ha un asilo nido comunale, ha asilo nido privati, non capisco perché non bisogna investire in quella direzione già fin da subito. Questa cosa mi è molto dispiaciuta, soprattutto quando ho visto il voto della maggioranza che è stato sfavorevole per queste cose. Un'ultima domanda. Secondo lei, da 0 a 10, quanto sono sicure le scuole di competenza comunale qui a Mazzara del Vallo? Sicuramente la sicurezza è un tema che mi sta molto caro. Dare un voto, non da tecnico, io non sono un tecnico, non mi sento di spermi un voto, però da cittadino, per le cose che ho visto, penso che bisognerebbe avere più attenzione per la sicurezza. più attenzione. Sicuramente non voto nemmeno la sufficienza. La sufficienza non mi sta bene. Se ci sono infiltrazioni, se ci sono uscite di sicurezza, scale, se ci sono praticamente interventi dei vigili del fuoco che segnalano e che intervengono, allora non mi sta bene. Vuol dire che bisogna intervenire in maniera diversa. Non è sufficiente l'azione dell'amministrazione comunale. pur sapendo che le casse comunali e quelle statali non si sta fornendo la giusta, le risorse sono pochissime, però se ha le risorse poche, contemporaneamente non si attiva un meccanismo veramente di azione efficace, quindi se io non ho dei progetti pronti, se io quello che posso fare non lo faccio al 100%, vuol dire che non sto facendo bene il mio mestiere, non sto facendo bene il mio dovere. E questo non mi sta bene. Detto questo, per quanto attiene il bilancio, ho visto che in città c'è un grande dibattito sulla questione di sicurezza. Ebbene, ho sottoscritto assieme a molti altri consigli comunali un documento da inviare al prefetto che impegna, come dire, lo Stato a intervenire con le forze dell'ordine una maggiore attenzione. Ebbene, il Comune di Mazzana del Vallo, però, ha il corpo dei vigili urbani. I vigili urbani devono essere, come dire, dotati di più strumenti, di più risorse. Non si può, io non posso leggere il bilancio che le risorse sono veramente esigue per il corpo dei vigili urbani. I vigili urbani potrebbero essere impiegati a fare, come dire, azioni di vigilanza e controllo nel territorio, potendo fare più straordinari, pagati, potendo fare un'azione di controllo più efficiente nel territorio. Non mi sembra che l'amministrazione comunale in tal senso abbia messo risorse adeguate. Stesso dicasi per il settore turismo, per quanto riguarda l'impegno di spesa proprio del Comune, dei fondi comunali, io rilevo nelle varie pieghe del bilancio che i fondi messi in la funzione, lo voglio dire con precisione, in pratica la voce turismo, Funzione 7, io a pagina 37 del PDF che mi siete inviato, leggo che per l'anno chiuso, il 2013, 5 mila euro di fondi disponibili, per l'anno in corso la previsione di bilancio è zero. E non mi sa bene. È una cosa inaccettabile questa. Una città che punta al turismo, investire zero euro per il turismo è una cosa un po' ambigua. Di investire zero, questa previsione, anche perché la previsione, noi siamo parlato di una cosa che mi fa un po' sorridere, siamo al 18 dicembre 2014 e mi hanno fatto votare le previsioni del bilancio 2014, ma è plausibile una cosa del genere? Si dovrebbe chiamare bilancio di constatazione più che di previsione. La constatazione non è certo una casperazione delle migliori, tant'è che non mi sono sentito di bocciare il bilancio per il semplice fatto che se sono stato impegnato a delle somme e ci sono delle ditte, c'è gente che deve percepire quelle somme perché ha lavorato, e allora non mi sono sentito proprio di bocciare il bilancio. Il bilancio è un provvedimento molto delicato. Però se da questo bilancio si vince un certo indirizzo, non lo posso nemmeno approvare, ecco perché mi sono assenuto. L'indirizzo che da cittadino mazzarese pensavo, penso, si dovesse dare con le risorse finanziarie del Comune, credo che deve essere un altro, non quello che evinco dalle pagine del bilancio. Quindi auspico a un 2015 migliore, spero che una volta votato anche il consuntivo del 2014, immediatamente venga portato il bilancio preventivo del 2015, che ci sia un'efficienza maggiore sia da parte dell'amministrazione che da parte degli uffici comunali. E spero, augurando a tutta la città di Ranzamanzarese, insomma, un dignitoso Natale e un felice Natale da passare in famiglia, perché alla fine, come dire, sotto l'albero non è importante quanto c'hai ma con chi sei. E purtroppo io devo rilevare che molti mazzaresi, non ci sono molti miei amici, sono a lavorare in Inghilterra, in Germania, questa cosa mi fa tanto tanto male. Voglio sperare che il con chi sei, che tutti i cittadini mazzaresi attorno all'albero di Natale, attorno a quella tavola dove dove saranno insieme le loro famiglie abbiano la possibilità di viversi con il cuore dignitosamente questa festa. Quindi l'augurio a tutti, a partire dall'amministrazione, tutto il Consiglio Comunale e tutti i cittadini di Buon Natale da parte mia, da parte di tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle. L'augurio è che per il prossimo anno riusciamo a fare meglio, anche perché voglio pensare e sperare positivo voglio pensare e sperare che tutti ci si orienti in un cammino migliore, più efficace, più aderente ai reali bisogni dei cittadini e di questa città. Io ci voglio ancora sperare, voglio essere positivo. Perfetto, grazie al Consigliere La Grutta per essere stato qui con noi questa sera. Vedremo quindi nelle prossime settimane come andrà a finire se magari nel 2015 il bilancio di previsione si farà a febbraio come dovrebbe. Per quanto riguarda l'argomento Scuole Sicure nel prossimo numero dell'opinione in uscita il 30 dicembre ci sarà un approfondimento che sicuramente sarà molto interessante per tutti i genitori che portano i figli nelle scuole comunali di Mazzara del Vallo. Saranno elencate le criticità che abbiamo riscontrato grazie alla quinta commissione di Mazzara del Vallo. Intanto buon Natale a tutti e felice anno nuovo!